Cardio con varianti di plank, una breve sessione impegnativa e dinamica per rinforzare il core e migliorare la coordinazione. Vamos! Ok, iniziamo. Spinte dietro, iniziamo subito con un ottimo riscaldamento. Prima di iniziare questo super workout, vamos! Due spinte e cambio, due spinte e cambio, vai! Respirazione, naso e bocca, ancora 5, 4, 3, 2, 1, cambio, tocco spalle e braccia su. Scaldiamo bene tutta la parte alta, vai! Testa dritta, respirazione attiva, esercizio successivo, torsione tronco, respiro. 5, 4, 3, 2, 1, cambio, largo le gambe, torsione del tronco, vai! Movimento controllato, attiviamo il tronco, respiro. Non forzare il movimento, vai! Ancora. 5 secondi e cambiamo in circonduzione braccia in avanti, 3, 2, 1, cambio, circonduzione braccia in avanti, vai! Movimento ampio, scaliamo le spalle, tutta la parte alta ancora, 10 secondi e cambiamo in circonduzione braccia in ghietto, vai! Respiro, respiro, respirazione, 3, 2, 1, cambio, circonduzione braccia dietro, il movimento è ampio, controllato, scaldiamo bene le braccia, le spalle, tutta la parte alta. Esercizio successivo, spinte frontale senza peso, respiro, respirazione, 3, 2, 1, cambio, spinte frontali senza peso, vai! Scaldiamo bene, respirazione, vai! Ancora, vai! Respira, 5, 4, 3, 2, 1, tallone glutei, salgo, piano piano, iniziamo ad attivare tutta la parte bassa, vai! Respiro, sempre respirazione, esercizio successivo, step touch, vai! 3, 2, 1, cambio, step touch, movimento laterale, sincronizzo braccia e gambe, vai! Andiamo a scaldare bene anche la parte bassa, esercizio successivo, spinta su gamba, iniziamo con la destra, 3, 2, 1, vai! Spinta, destra, respiro, testa dritta, respirazione attiva, piccola spinta sulla destra e poi cambiamo con la sinistra, ancora! 3, 2, 1, e cambio sulla sinistra, vai! Respiro, solo gamba sinistra, ancora! Su, su, esercizio successivo, corsa lenta sul posto, vai! 3, 2, 1, corsetta lenta sul posto, respiro, aumentiamo piano piano il ritmo, partiamo con un bel jumping jack! 10 secondi, ricordati di respirare sempre, naso e bocca, 3, 2, 1, jumping jack! Vamos! Salto su l'avampiede, testa dritta e mantengo il ritmo, vai! 10 secondi, fino alla fine, pam, 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 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo a terra e iniziamo il nostro workout con il plank braccia tese. In isometria, andiamo in posizione, 3, 2, 1, vai! Addome contratto, gluteo contratto, braccia in linea con le spalle, respiro, 3, 2, 1, recupero attivo, risaliamo! Ci prepariamo alla calciata al gluteo solo su una gamba, respiro, 3, 2, 1, vai! Calciata al gluteo solo da una parte, molleggio sull'altra gamba, attivo le braccia, salgo bene dietro, vai! Vai, talone al gluteo e respiro, ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, riscendiamo a terra per il plank su gomiti, sempre in isometria. Andiamo in posizione, 3, 2, 1, vai! Vai, gomiti in linea con le spalle, gluteo contratto, respirazione, 3, 2, 1, e salgo! Saliamo, recupero attivo, abbiamo la calciata al gluteo dall'altra parte, sull'altra gamba, respiro, 3, 2, 1, vai! Pam, pam, respirazione, sincronizzo bene il movimento braccia e gambe, respira e mantieni il ritmo, vai! Vai, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo ancora a terra per il plank, braccia tese in isometria, posizione, braccia in linea con le spalle, 3, 2, 1, e vado in posizione, addome contratto, gluteo contratto, corpo in linea e respiro. 3, 2, 1, recupero attivo, saliamo, respiro, ci prepariamo a saltello laterale, ginocchio su, saltello laterale e ginocchio su, 3, 2, 1, vai! Vai, e su, e su, e su, respiro, mantengo il ritmo, vai! Pam, 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 respiro, ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo a terra, plank sui gomiti, attiviamo addome e lombare, 5, 4, 3, 2, 1, posizione, corpo in linea, glutei contratti, testa dritta, respiro, mantengo la posizione, 3, 2, 1, e risalgo, risalgo, respiro, ci prepariamo al passo incrociato dietro con il salto, 3, 2, 1, vai! Passo incrociato dietro con il salto, pam, pam, respirazione, mantengo il ritmo, saltello e passo incrociato, saltello e passo incrociato, vai! 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo a terra, andiamo in plank, questa volta plank in movimento, con le braccia tese, andiamo in posizione, sempre in respirazione, 5, 4, 3, 2, 1, e vai! Addome contratto, movimento delle gambe destra e sinistra, vai! Vai! Respiro, fino alla fine, pam, 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 3, 2, 1, risalgo, respirazione, proviamo il nuovo esercizio, 4 ginocchio, su, più 4 pugni, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, pam, 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 1, 2, 3, 4, pam, 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 coordinazione, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora, vai! Pam, 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 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo a terra, Ancora plank in movimento, braccia tese, colpo sempre in linea, 3, 2, 1, vai! Controlo la posizione, testa dritta, movimento delle gambe, vai! Respiro, fino alla fine, 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo, ritorniamo su 4 ginocchio in su e 4 pugni, dall'altra parte, respiro, 3, 2, 1, vai! Pam, 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 e pugno, ginocchio, e pugno, vai, 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 e pugno, ancora, 4, vai, 3, 2, 1, recupero! Ci prepariamo allo stretching, esercizio di mobilizzazione della colonna, 10 secondi, respiro, naso, bocca, 3, 2, 1, posizione, In arco e in curvo, vai, in arco e in curvo, respiro, vai, mobilizzazione della colonna, ancora, vai, 3, 2, 1, stretching, spalla destra, vai, braccio teso, Mano sinistra in appoggio sul gomito, e respiro, senza forzare, respiro, naso e bocca, 5, 4, 3, 2, 1, lascio, sinistro, vai, mantengo la posizione di stretching, spalla bassa, respiro, 10 secondi, Mi raccomando lo stretching a fine workout, 3, 2, 1, stretching, gamba destra, salgo, equilibrio, e rimango in posizione, ginocchia vicine, mantengo lo stretching, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, lascio, piano piano, sinistro, andiamo in posizione, mantengo la posizione, respiro, respiriamo sempre, naso e bocca, 3, 2, 1, lascio, il tuo workout è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos!